Da circa due mesi a Grumo Nevano, nel Napoletano, un gruppo di giovanissimi all'alba o in tarda serata esce a bordo di un'onda SH bianco e nero o di una Fiat 500 bianca, alla ricerca di vittime da aggredire con calci, pugni, spranghe e coltelli. Le persone aggredite sono migranti, pakistani, bengalesi e indiani e il più giovane delle vittime ha solamente otto anni. I video delle aggressioni sono diventati virali sul web e hanno procurato lo sdegno di migliaia di utenti. Le ronde razziste proseguono senza sosta anche se nel merino dei riflettori mediatici, segno che si tratta di giovani violenti e con pochi scrupoli. I migranti sono anche scesi a protestare in massa sotto la caserma dei carabinieri della cittadina in provincia di Napoli e una loro delegazione ha incontrato il prefetto per chiedere maggiori misure di sicurezza, che già da queste ore sono state potenziate. Il deputato del PD, Marco Sarracino, ha presentato in Parlamento una interrogazione al ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, per sapere se si è a conoscenza di questi raid razzisti contro i migranti abitanti di Grumo Nevano e delle zone limitrofe e quali provvedimenti intende assumere per non abbandonare le comunità di migranti sul territorio, ha scritto Sarracino. Ma la tensione è alta e si teme che l'escalation di violenza possa ulteriormente degenerare nelle prossime ore.